Vincenzo, mi sa che una volta dobbiamo fare lo scardinario stasera C'è tocco Ci vorresti mangiare un bello panozzo nel ragazzino? No, ma perché? Una bella pizza Andò, ma scusa, non dovevamo andare qui in ufficio Poi la pizza si mette pure qua in questo modo Facciamo una cosa, vogliamo chiamare il grattino? Il grattino? Ma che resta la robita? Il cinese, il cinese! Vabbè, facciamo una cosa Vediamo... ma... l'elenco? Non viene l'elenco? Sì Ma mettete l'elenco Aspetta, vediamo un attimo se trovo qualcosa su internet Magari facciamo una cosa bella Vediamo Trippando Marisol O se cosa... Aspetta... C'è un video Ehi, ragazzi, guardate Una nuova app Sono atletica Sono bella? Ah, sì, è Just Eat Magari Serve per ordinare da mangiare? Dai, schiacciagli l'icona che ho fame Tadà! Chi ha detto fame? Eh, perché non ho... Guardate qua Scegliete i vostri piatti preferiti nei menù di migliaia di ristoranti Per te la pizza E per te il sushi E per me? E con le cazze Sei atletica? Oggi salti Hai fame? Just Eat Scarica l'app E sta terriba E sta terriba E sta terriba Bello